Anticipazioni beautiful. Mercoledì 11 dicembre 2019. Zoe e Xander si baciano felici di stare di nuovo insieme. Il ragazzo spende bellissime parole per lei affermando di essere certo che ha sofferto tantissimo a causa del padre e che probabilmente ha sperimentato quella che gli specialisti chiamano sindrome dell'abbandono. La modella risponde di sì e svela di voler mettere in atto un piano per capire se davvero il genitore è finito in un brutto giro, vuole prestargli dei soldi. Se non glieli restituirà in tempi brevi allora ha bisogno d'aiuto per davvero. Xander la guarda ammirato e approva. Taylor non crede che Steffi sia pronta ad adottare una bambina. Reese la invita a provarci. Florence rimasta sola con la IS afferma di voler garantire un futuro migliore a sua figlia. Non lasciarla in un orfano proprio. Taylor capisce e promette di farsi risentire il prima possibile. Reese poi rientra nella stanza e si complimenta con Florence per come sia riuscito a manipolare l'ex psichiatra dimostrando così di avere un piano in corso. Non passa molto che il ecologo ringrazia la ragazza per quello che sta facendo per lui. La giovane fa capire di volere qualcos'altro da lui ma l'uomo disapprova subito. Ammette di essere felice di averla come complice e che sarà bene ricompensata per tutto questo ma il loro rapporto resterà esclusivamente lavorativo. A un tratto squilla il cellulare del dottore e lo strozzino che gli rammenta che il tempo sta per scadere e che Zoe è in pericolo.